Primo tempo se le sa ognù contro il Borussia Se andiamo un po' vicino... Santoro, Santoro vini qua dai, non te la prende Ciao Ciccio Massimo con voi mamma mia Dai dimmi un po' Senti ma com'è la situazione? Come sono le cose? State perdendo 2-0? Abbiamo giocato una grandissima partita per 15-20 minuti Sì Poi abbiamo subito il primo gol e ci siamo spenti Vabbè ma di là che possa essere un po' la colpa dell'arbitro Cerchiamo un po' di guardare anche di pensare di più Vabbè ma io non posso dare la colpa dell'arbitro Io dico... non lo so, abbiamo subito il primo gol ma non ci siamo Vabbè dai ti lascio per la preparazione tattica del secondo tempo Andiamo un po' di là Dai 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 2-0 Come vede la partita? Siamo un po' nervositi gli avversari ma voi state mantenendo la calma State comportando benissimo Sì ci stiamo comportando bene Speriamo di portare a casa questo risultato Vabbè dai vi lascio per il secondo tempo In bocca al lupo Newsele Sao e anche il Borussia Dortmund Ciao ragazzi Buonasera signore intervista ai migliori in campo MVP Antonio Carpino della Newsele Sao Partita appena terminata contro il Borussia Dortmund Ranavolo migliore tesori Ranavolo veloce veloce 6-1 Un unico gol tuo No 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 mio Un altro mio amico Sì sì Una bella partita Giocata da una parte Poi abbiamo preso il primo gol In meritato Sì E poi ci siamo lasciati andare Contro un'attima squadra Vabbè dai Senti puoi ringraziare qualcuno? Ringrazio la mia squadra Anche se l'abbiamo perso Ringraziamo anche Geni Santoro Che come sempre oggi Ha fatto il suo show Sì va bene Lui è così Vabbè dai Complimenti Ranavolo Ci vediamo domenica con te Carpino complimenti MVP Finalmente È la prima volta che ti vediamo Anche le telecamere Con una bellissima medaglia Caseccato Com'è stata la partita? Non diciamo semplice Mi trovo sulla stessa linea Di Ranavolo Assolutamente i primi 15 minuti Ci hanno un po' schiacciato Dopo un primo gol Un po' fortunoso Siamo sbloccati E siamo usciti Insomma abbiamo Meritato alla fine Capisco Senti News e lesa Punteggio pieno Dove vogliono arrivare? Lo penso Lo vogliono vincere Sì sì Assolutamente puntiamo al titolo Penso Non vorrei dire parole troppo pesanti Un messaggio a Ugo Potenza E Marco Grazie a tutti Grazie a tutti